Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, resta coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. E arriviamo in Fipilì dove troviamo 5 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra il bivio di ramazione Pisa, SGC, Fipilì e Navacchio verso Pisa. Per lavoro inoltre coda di 2 km verso Firenze tra Empoli e Ginestra in carreggiato opposto a rallentamenti tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, per corsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!